Gli Stati Uniti stanno bloccando TikTok, stanno vietando TikTok di continuare a operare in queste condizioni, ovvero con una società e una proprietà cinese che quindi di base per legge cinese deve dare tutto quello che ha, quando vuole, quando lo Stato lo richiede, alla Cina. E quindi che vuol dire? Vuol dire che in una guerra semifredda, che è quella che sostanzialmente stiamo vivendo tutti, questa applicazione è in grado, come molte applicazioni, di raccogliere una marea di dati sulle persone che la usano, gusti, interessi, cosa fanno, altre applicazioni addirittura come sapete, non dico TikTok, ma come dire, sono in grado di ascoltare il microfono e così via, e di leggere i nostri messaggi. Ecco, e sostanzialmente gli Stati Uniti non sono felici che uno Stato semi-amico o semi-nemico o comunque semifreddo, come nel caso delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, possa avere in mano tutti quei dati, soprattutto di ragazzi giovani e che quindi sono facilmente influenzabili. E questo è un altro tema importante, siamo di fronte a elezioni, elezioni che nel mondo ormai raggiungono 2 miliardi di persone dappertutto ed è facile influenzare da remoto, in quanto una volta i media che influenzavano le intenzioni di voto erano locali, adesso sono internazionali. E questa è la prima ragione, la seconda è legata prevalentemente ad una questione economica, comunque si stanno portando via interessi, business, eccetera, di milioni di persone e lo stanno portando, è come se, come dire, un'azienda straniera facesse concorrenza localmente. Di solito ci sono i dazzi in questo senso, perché fisicamente le merci sono regolamentate e quindi se uno stato non vuole che un altro venda i suoi prodotti nello stato in cui è, ma perché vuole vendere i propri, ci si applica dei dazzi. Lo si può fare ma costa di più. Ecco, nel caso di TikTok, dove l'applicazione è gratuita, diventa dura a fare questo, soprattutto in un mondo in cui con un click e con una VPN è facile, se ti viene vietato di usare un'app, invece usarla. Questa è un po' la situazione e quindi dobbiamo preoccuparci o no? Dipende, nel senso che se ritenete che la Cina acquisendo informazioni nostre possa influenzare le elezioni e anche portarsi via tutta una serie di dati nostri e questo non sia un bene, allora probabilmente siete d'accordo. E se invece ritenete che in fondo il mondo sia uno e che tutto questo porti solamente attenzioni e che chi se ne frega se la Cina ha i dati dei nostri ragazzi, chi se ne frega se la Cina è in grado di influenzare le nostre elezioni perché in fondo che danno vuoi che faccia e allora siete contro il blocco di TikTok. Una cosa certa è che è molto più comodo usare un'applicazione del genere e basta, è divertirci sì, piuttosto che porsi tutti questi problemi. Non a caso sono molti ragazzi, e lo saranno, arrabbiati perché non potranno più usare TikTok sempre che TikTok non prenda provvedimenti come quelli richiesti dagli Stati Uniti che appunto deve diventare, deve essere venduta da una società interamente americana. Questa un po' è la situazione spiegata in modo facile facile facile.